La mia meringata è uscita abbastanza stratificata, ho fatto 6 strati. Ho usato i lamponi al posto delle fragole per dare piacidità, quindi penso che può piacere ai professori. La meringata credo che mi sia venuta bene, non è un dolce che faccio abitualmente, però credo sia andata abbastanza bene. Poi dipenderà sempre se hai professore.